Se si tratta di fuga sarà solo il tempo a confermarlo. Le premesse che a Tessa Valdisangro e l'Aquila possano contentersi la vittoria del torneo di Serie D ci sono tutte e il buco creatosi sulle inseguitrici, 6 e 4 punti, è lì a testimoniarlo. Ma attenzione, da dietro sono in pareti a battagliare e l'equilibrio generale potrebbe proprio favorire eventuali rientri in vetta. Intanto la tredicesima giornata ha confermato gli ottimi momenti di a Tessa Valdisangro e l'Aquila. Gli atessani si sono imposti pur soffrendo nel derby con i cugini del Casoli davanti ad una splendida cornice di pubblico. Casolani in vantaggio con Morga e Spreconi. Prima lo stesso Morga e poi Zerrillo si fanno parare due calci di rigore nel giro di un minuto dal giovane Scerbo che sarebbero valsi il raddoppio. Scampato il pericolo la capolista reagisce grazie alla doppietta del solito Miani e alla rete di Lazzarini. Fissa il 3-2 finale ancora Morga. Nell'anticipo di sabato l'Aquila aveva lanciato l'assalto al primato andando a violare il campo dell'Angolana. 0-3 firmato da Colella, Villa e Ruggero. Sullo 0-1 l'Angolana ha sbagliato il rigore del possibile pareggio con Gangè. Hanno rallentato le rispettive corse sia il Chieti sia la Sant'Egidiese rispettivamente con Trivento e Dagnonese. Lo 0-0 dei Noroverdi in uno stadio Angelini chiuso al pubblico è da considerarsi positivo poiché i molisani hanno fallito un tiro dal dischetto con Borrelli. La Santa Dagnone era passata per prima in vantaggio con la punizione deviata di Ketlun, poi Tammaro fissa il risultato sull'1-1. Nella parte bassa della classifica tra le abruzzesi centra il successo solo il Morrodoro che ha avuto la meglio del fanalino di coda Real Montecchio per 4-3. Morresi avanti con Cocca, Pesaresi reagiscono e prima pareggiano con Severini e poi passano a condurre con Badioli. In chiusura di prima frazione fa 2-2 Bisegna. Nella ripresa di nuovo ospiti avanti con Forte, Costantino e ancora Bisegna completano la rimonta che vale i preziosi tre punti. Sconfitta per il canistro a Boiano decide un doppio rigore di Iaboni. Recriminazione in quantità per il Miglianico battuto a Civitanova Marche. Civitanovese in gol con Argiolas, momentaneo pari di Chiacchiarelli, rete del 2-1 di Fuocuputu. Nel mezzo due gol annullati a Epifani e Chiacchiarelli che gridano vendetta. Nelle altre gare il Centobuchi batte a domicilio l'Elpidiense, pari ad occhiali tra Re Canatese e Campobasso.